da babele la macedonia quest'oggi ci porta a contemplare un anniversario perché è di un uomo che ha vissuto pienamente l'esperienza della pasqua che si celebra nel suo anniversario di morte e cioè Don Luigi Giussani conosciuto soprattutto perché ha dato vita a un movimento a una realtà un'associazione che poi si è sviluppata con tanti rami ma credo che la sua persona di per sé fosse una persona straordinaria indipendente poi da quello che ha fatto cosa rimane di quest'uomo oggi cosa come come lo ricordi quello che penso di Giussani è quello che ho visto in lui sono dei fatti degli episodi degli incontri che posso citare per come data come orario un po' è capitato a me quello che continuamente lui ci diceva perché lo arricchiva sempre di particolari perché lo stava vivendo l'incontro che i due hanno fatto con Gesù alle quattro del pomeriggio alle quattro quelle delle quattro del pomeriggio quindi una cosa che incide nella vita è proprio perché incontri qualcuno che ti segna la vita e quindi ne ricordi il tempo l'ora quasi anche l'atmosfera esterna e quindi di Giussani potrei dire tante cose perché ormai sono centinaia i libri che continuamente vengono sfornati su quello che ha detto le conferenze che ha fatto ma questo ultimamente non è quello che a lui premeva se non l'incontro con quello che lui stava vivendo e credo che quando Papa Francesco dice che il cristianesimo non è per proselitismo ma per attrazione ecco io sinceramente ho fatto questa esperienza e quindi tramite lui sono arrivato a una fede più consapevole il cristianesimo è per attrazione l'attrazione non è perché parli bene perché hai un impianto teologico o discorsivo accattivante ma perché vedi una persona che vibra in quello che lui per primo ha vissuto e quindi è da persona a persona e questo mi sembra che sia veramente anche la dinamica più affascinante del cristianesimo tu hai incontrato qualcuno che il dire Cristo vibrava come se l'avesse toccato visto udito come i primi. Dopo da lì è nata anche un'opera è nata anche una realtà ed è una realtà importante a cui oltretutto don Luigi Giussani ci teneva tantissimo ecco però stranamente poi quest'opera dopo che lui se n'è andato è finita in mano agli spagnoli cioè una cosa che è uscita dall'Italia adesso il responsabile internazionale è uno spagnolo quindi c'è stato un sodalizio con una realtà spagnola simile a Comunione e Liberazione e da lì questa cosa si è sviluppata in questo modo è un po' strano no? Non è strano perché è nella struttura di Giussani che di Don Giussani che sceglieva sempre delle persone che sentiva vibrare in quel momento in modo particolare su quello che per lui era fondamentale quindi invece di uno spagnolo poteva essere anche uno dello Sri Lanka che poco importava l'importante è che vibrasse di quella vibrazione con cui lui viveva la sua esistenza se la trovate negli spagnoli perché gli spagnoli io l'ho seguita questa comunità agli inizi l'ho seguita perché l'ho conosciuta perché sono andato a Madrid perché ho visto i primi tentativi era una comunità che molto molto semplice molto molto elementare starei per dire ma con una forte vibrazione in quello che Giussani sentiva tanto per dire che all'inizio la comunità spagnola era formata forse da una decina di persone e prendeva l'aereo da Milano a Madrid solamente per stare con loro alcune ore e mi dicevano ma quali grandi discorsi vi fa no ci dice semplicemente siete contenti di vivere siete contenti della vostra fede e poi rimaneva lì qualche ora e ritornava a casa non è che facesse delle grandi lezioni di teologia la formazione era stare con loro era stare con loro e ma di fatti è anche questa è una pagina evangelica in fondo tutto sommato la vita di Giussani quando San Marco dice nel suo nel suo Vangelo che Gesù ne scelse dodici perché stessero con lui non perché imparassero che so io lo schema teologico degli scrivi dei farisei perché stessero con lui cioè insegnava perché vibrassero della stessa corrente che sollecitava la sua vita ma questa è la cosa più bella perché incontri una persona se poi questa persona ha generato altre persone che sentivano la stessa vibrazione questo è un movimento di fatti non è una un'associazione non è una una istituzione è un movimento perché un movimento è come una corrente il rimbalzo dell'onda non è sempre quello è sempre nuovo e quindi ci occorre delle persone che vibrino continuamente di questo inizio e io credo che sia proprio quello che la chiesa ha bisogno tanto è vero che Giovanni Paolo II dirà la chiesa dovrebbe diventare un movimento la parrocchia dovrebbe diventare un movimento ma d'altra parte per esempio Papa Francesco quando parla a noi del rinnovamento nello spirito parla di corrente di grazia ecco benissimo una corrente una corrente è un movimento e che continuamente è nuovo secondo te come liberazione re ha retto il colpo cioè nel senso se va avanti bene il colpo della morte del fondatore io penso che per qualsiasi comunità che abbia in sé la dinamica del movimento è dura e carron lo dice sempre io non sono don giussani io non ho il carisma di giussani io sono anch'io discepolo come voi e che sono chiamato comunque a incanalare questa ricchezza di grazia in modo tale che possa essere di beneficio di utilità per la chiesa tutta quindi è inevitabile che a questo carisma bisogna continuamente rifarsi ma bisogna dire che anche giussani come tutti i veri fondatori non diceva io ho il carisma ma il carisma è un movimento che nasce è la realtà stessa che viene prodotta dal carisma di cui poi anche se il fondatore è colui che da l'input iniziale è immerso a sua volta quando lui diceva io non volevo i memores domini che sono la parte del movimento che si consacra nella verginità lui non lo voleva sono stato tirato dentro e ho dovuto io stesso riconoscere che questa era la bontà che veniva richiesta a comunione liberazione in quel momento anche comunione liberazione stessa non nasce mica da lui no cioè in realtà è nata da degli studenti in milano che si sono messi a far cose lui e lui è stato portato dentro sì quindi il movimento in qualche modo riflette il carisma ma lo lo rende vitale esattamente quindi non bisogna troppo enfatizzare sui fondatori anche se bisogna dare a loro tutta la credibilità che occorre e tutta la venerazione che occorre la loro vita si stempra dentro l'opera che che da loro è nata quasi starei per dire inconsapevolmente perché non sono delle persone che stanno lì a tavolino fare gli organigrammi per poter buttare in piedi un'istituzione è una cosa che nasce come nasce una vita insomma mi hai detto che hai molti ricordi di lui e quindi che nasce da un'esperienza tua delle ore no dei giorni che hai incontrato lui ecco se dovessi pescarne uno di questi ricordi ma mi viene in mente l'ultimo incontro che lui ha avuto con con il vescovo eugenio corecco ormai alla fine tanto è vero che aveva momenti di lucidità e ormai momenti di assopimento e lui è rimasto lì ricordo diverso tempo in silenzio solamente guardandolo poi è uscito e mi ha detto e io non so quasi quasi distinto sentivo che mancava o stava mancando un padre che per noi è stato il vescovo eugenio e ho detto a don giusani ma tu mi vorrai bene come prima e lui mi ha abbracciato e mi ha detto quando avrei bisogno io ci sono sempre aveva avvertito che lì stava morendo qualche cosa ma che lui doveva in qualche modo sostituirsi a una paternità che per il movimento in svizzera era evidente e doveva sostituirsi una paternità che veniva meno perché aveva terminato i suoi giorni e che si caricava di una responsabilità affettiva nei nostri confronti ancora più grande